Se legano al mix, si parte con Bruno Mars, 24 Carals Magic e si continua con The Boom, lei è Cristina Botticelli! Il Si Chò pò che si occassero, chò pò che già stai nascita a noi? Vediamo come, vediamo come, vediamo come, vediamo come, vediamo come Ci spaziano come, vediamo come, sei qui, non ti può accortare la scuola L'amore di confronto, non ci sono l'amore di quei mai, non ti puoi scendere, senza spaziano come, vediamo che si può, bello che vorrei Ho una macchina, non l'amore, mi formazione si introduceco, preverete e fatte Oh 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.